Buongiorno a tutti, oggi voglio recensirvi iTunes 11 che è uscito ieri alle 19 e quindi mostrarvi un po' l'aspetto grafico e le novità. Partiamo dal dock che l'icona sul dock è cambiata, infatti ha una grandezza di scaricamento quando lo installi è di 198 MB, però nonostante questo abbiamo una velocità d'apertura veramente eccezionale. Adesso vi mostro. Come vedete in 2-3 secondi è già aperto e non ho né SSD né altro. Come vedete è sparita la barra laterale a sinistra ma per chi non si troverà potrà riattivarla cliccando su vista, mostra barra laterale e riavrete la classica visione che avevate prima. Mentre tornando alla visuale come dovrebbe essere con iTunes 11 è questa qua. Come vedete la barra laterale è sostituita da una barra a comparsa con le varie sezioni quindi abbiamo la sezione della libreria con musica, film, programmi tv, podcast, libri, applicazioni, suonerie e condivisioni in famiglia che è la funzione che permette di riprodurre o copiare musica, film e molto altro grazie allo stesso di Apple su fino a un massimo di 5 computer. Tornando ad esempio a musica, tramite questa nuova visualizzazione abbiamo una visuale molto più amplia quindi non abbiamo più problemi a visualizzare tutte le informazioni o comunque quelle principali grazie a questa grandezza riusciamo a vedere appieno tutto senza dover controllare per bene le varie canzoni poi abbiamo anche qua la sottosezione con brani, album, artisti, generi, playlist, radio e match se utilizzate questa nuova funzione che permette di scaricare e di avere le canzoni che già avete acquistato tramite iCloud quindi ogni volta le potrete riascoltare senza bisogno di occupare memoria sul vostro dispositivo ma semplicemente ascoltandola direttamente online ovviamente dipende se avete un 3G che vi consente una certa qualità e anche è meglio se avete ovviamente il wifi in modo tale da non consumare banda col 3G l'abbonamento è di 25€ all'anno quindi questo è un aspetto in più poi altre sezioni della libreria come sempre vabbè film, programmi tv con non visti insomma le varie sezioni vengono messe qua in alto poi libri con la... finalmente non hanno messo... hanno vabbè messo audiolibri ma hanno messo la funzione libri e pdf staccati in modo tale che se io acquisto un libro acquisto un libro non è che mi metti la stessa... mi selezioni un pdf come libro quindi come ebook non va bene e infatti finalmente hanno messo pdf da una parte e libri da un'altra poi vabbè autori con i vari autori dei vari libri e poi elenco che è generale quindi c'è tutto poi abbiamo le app ovviamente e divise in vabbè tutti iphone, ipod, touch, ipad, giochi ipod ed elenco e poi suonerie o le canzoni che avete messo come suonerie qua a destra troviamo l'iTunes Store infatti cliccandoci sopra vi comparirà l'iTunes Store con la possibilità come vedete qua in alto di avere la visuale principale dei titoli diciamo in evidenza da acquistare e più in basso invece i classici album eccetera che vi consigliano tra le altre novità però sembra solamente ah vabbè tra le altre novità però solamente sembra in America è che quando dovrete mettere il codice sembra che sarà possibile utilizzare l'account del vostro Mac quindi grattando dopo aver grattato la la vostra iTunes Card o app Mac App Store Card mostrando il codice il codice alla telecamera la cam riconoscerà immediatamente il vostro il vostro codice e quindi non dovrete inserire manualmente tale codice penso che se verrà estesa a tutti sarà un'ottima cosa un ottimo modo di risparmiare tempo poi qua vabbè abbiamo un tasto che mostra la cronologia e qua quando voi attivate anche casuale ad esempio nella sezione musica cliccando qua potrete vedere il le canzoni che mostrerà successivamente e volendo potrete saltare anche alcune canzoni che non volete sentire come successive questa è un'ottima introduzione un'ottima novità che poteva starci poi abbiamo un tastino che ovviamente è il nuovo mini player che è fatto in modo un po' diverso e ha la possibilità anche di collegarsi con la funzionalità Airplay quindi con altri monitor esterni e con l'Apple TV abbiamo la possibilità di cercare musica e altro fatto molto più bene cliccando qua ritorneremo alla grandezza classica e invece cliccando qua ovviamente vi mette a tutto schermo ma essendo già con questa definizione non ne trovo la necessità per saltare solo sto pezzettino qua di neanche 5 mm di Finder quindi ricliccandoci sopra ritorniamo alla grandezza classica ok tra le altre ok tra le altre novità adesso vedremo un po' come funziona col collegamento wifi aspettate un attimo rieccomi un attimo giusto per mostrarvi che durante gli aggiornamenti delle applicazioni personali dopo essere andati sotto app e cliccando in basso verifica aggiornamenti vi mostro ovviamente a tutto schermo questo aspetto degli aggiornamenti quindi mentre scarica vi mostra questo ma poi la cosa bella è che vi mostra questa questa icona a forma di download tipo quella di Safari che cliccandoci sopra vi mostrerà lo stato degli scaricamenti in tempo reale con la possibilità di metterla in pausa e ovviamente di selezionare se consentire trasferimenti simultanei ma la cosa bella è che se noi andiamo anche in altre sezioni quindi andando sempre sotto libreria e andando anche sotto musica sotto libri avremo sempre a disposizione la visuale di a che punto è gli aggiornamenti e comunque come vedete qua in alto vi compare sempre se voi avete una musica attivata vi compariranno due frecce uno in basso e uno in alto in modo tale che potrete controllare sia quanto starete scaricando sia il nome e il brano che starete ascoltando adesso dovrebbe finire infatti sparisce e ritorna cerca nella libreria ok e adesso facciamo il collegamento wifi vediamo un attimo come funziona quindi attiviamo il wifi intanto noi siamo già connessi lo faccio tramite ipad e dovrebbe comparire come vedete qua a sinistra di itunes store compare ipad adesso aspettiamo un attimo che sia pronto come vedete vi mostra l'icona e potrete cliccando qua espellerlo e cliccando qua invece potrete vedere adesso vi mostro come vedete a parte la parte sopra che l'ho deselezionata per non mostrare i seriali e altro potrete vedere in modo molto meglio il tutto quindi backup e opzioni che con le precedenti versioni venivano un po' bypassate dall'utente normale e qua in basso è stata messa la barra di per mostrare la memoria libera e lo spazio di app con anche la segnalazione di 209 app che sono state installate con indicare le foto che sono su il numero di brani e l'occupazione in gigabyte ovviamente numero di libri all'interno e altro questo è uguale a prima dunque le info quindi tutto se volete sincronizzare mail e altro le app quindi collegandosi col mio ipad mi mostrerà il numero di applicazioni e la novità è che rispetto a prima che c'era il quadrattino di deselezione e selezione sull'installare delle cose potremo rimuovere delle applicazioni cliccando su rimuovi e quando cliccheremo su rimuovi comparirà la voce da rimuovere e quindi una volta che cliccherete applica mi sembra comunque sincronizza vi rimuoverà da quel dispositivo le applicazioni che non vi serviranno poi suonerie ovviamente potrete scegliere se tutte le suonerie o solo le suonerie selezionate musica se tutto o solo una certa playlist film quindi sincronizza anche solo i film programmi tv podcast quindi tutti quelli non riprodotti comunque sincronizzazione anche qua libri quali libri se tutti o solo quelli selezionati foto quindi anche solo gli sfondi per dire e su ipad qua ti mostro in generale il tutto quindi dalla musica musica film programmi libri e altro e se vorrete aggiungi a e potrete scegliere dove cliccherete poi fine ok vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video